Quali sono i modi migliori per prevenire l'abuso di alcol e droghe? Chiunque abbia combattuto la dipendenza ti dirà che è estremamente difficile interrompere la pratica una volta iniziata. La prevenzione dell'abuso di alcol e droghe prima che inizi è quindi estremamente importante e questa prevenzione dovrebbe iniziare in giovane età. Uno dei modi migliori per prevenire l'abuso di alcol e droghe è quello di formare una mentalità familiare e un atteggiamento che promuova comportamenti positivi e scoraggi l'abuso di alcol e droghe. I genitori possono dare il buon esempio astenendosi completamente dalle droghe e dall'alcol, o bevendo alcolici con moderazione e usando solo farmaci da prescrizione in modo responsabile. I bambini spesso imitano i comportamenti di coloro che li circondano, e poiché i membri della famiglia hanno spesso la più grande influenza sui bambini, è importante che genitori e fratelli scoraggino l'uso di alcol e droghe in casa. Mentre il consumo di alcol non è necessariamente una cattiva pratica o tabù, dovrebbe essere scoraggiato nei bambini piccoli per aiutare a prevenire l'abuso di alcol e droghe in giovane età. È difficile o impossibile impedire a un bambino di abusare di droghe o alcol quando la persona che cerca di fare prevenzione partecipa all'uso di alcol o droghe. I programmi scolastici sono anche orientati a educare i bambini e gli adolescenti sui pericoli dell'alcol e dell'uso di droghe. Le scuole sono spesso l'ambiente per le introduzioni di molti bambini alla droga e all'alcol, così gli insegnanti e gli amministratori devono essere consapevoli dei rischi e dell'ottima conoscenza dei metodi migliori per insegnare i pericoli dell'abuso di alcol e droghe. Tali metodi possono includere lezioni e seminari specificamente progettati per educare i bambini sui rischi dell'abuso di sostanze, invitare oratori ospiti a parlare agli studenti delle loro esperienze con droghe e alcol e persino sviluppare un sistema di risposta rivolto agli studenti che potrebbero essere a rischio di sostanza-abuso. Sono inoltre necessarie risposte comunitarie all'alcol e all'abuso di droghe. Ciò potrebbe significare rendere disponibili servizi per l'abuso di sostanza a tutte le persone, consulenza, centri per il trattamento delle tossicodipendenze e programmi comunitari volti a educare le persone di tutte le età sui rischi dell'abuso di sostanze sono tutti modi per aiutare a prevenire tali abusi. Le leggi sono quasi sempre in vigore per affrontare l'abuso di sostanze, Le accuse di possesso di stupefacenti possono portare a multe e carcere L'ubriachezza pubblica può portare a una notte o due in prigione. Bere e guidare può portare a gravi conseguenze, la più piccola delle quali è la sospensione della patente e il più significativo dei quali può essere un lungo periodo di detenzione.